L'articolo 10 riconosce l'importanza del contesto internazionale per la tutela della pace, della giustizia tra le nazioni e per la tutela dei diritti inviolabili delle persone. In questo modo è stata recepita la tutela dello straniero, inteso come chiunque non abbia la cittadinanza italiana o europea o che non abbia la cittadinanza. La Costituzione italiana riconosce il diritto d'asilo nel territorio italiano allo straniero al quale nel proprio paese di origine venga impedito l'esercizio delle libertà democratiche che invece sono garantite dalla nostra Costituzione. I diritti inviolabili devono essere infatti riconosciuti nei confronti di chiunque, anche di chi raggiunge il territorio italiano in maniera clandestina perché sono diritti che appartengono alla persona.